Come faresti gli auguri al Trapani e a Trapani? Che cosa è per te il Trapani? Che cosa è per te Trapani? E poi Cremona, San Siro, la promozione dalla C2 alla C1, la promozione in B.E. Che cos'è che suscita di più le tue emozioni e cosa ti senti di dire a tutti quelli che ti fanno Trapani? Buon compleanno Trapani perché il 2 aprile naturalmente non può essere una data come le altre, un giorno speciale un po' per tutti quanti i tifosi del Trapani. Ed è la festa di migliaia di sostenitori che comunque seguono e palpitano e vivono un po' ogni sfida con una passione secondo me incredibile e unica, addirittura anche contagiosa. È una passione che è capace di accompagnare gioie, emozioni. Trapani, diciamo che Trapani da un certo punto di vista disconosce il verbo accontentarsi sia in campo che fuori. In questo secolo di vita la squadra non si è mai fermata, è stata capace di risalire, di vincere tra mille difficoltà, in alcuni casi di ritornare a farlo. Con la voglia di accettare nuove sfide e di guidare anche un cambiamento non solo calcistico ma anche, lasciatemelo dire, un po' sociale. Con la voglia appunto di guardare sempre avanti, di non mollare mai. È naturale che ci siano in me ricordi delle promozioni storiche, della partita con Lavellino, il gol di Peppe Pirrone, quel 3-1 che ci ha fatto impazzire un po' tutti, al gol di Matteo Mancosuo a Cremona. Poi, che dire, del gol di Madonie e dei gol di Madonie di Caccetta a San Siro, momenti secondo me indelebili. C'è stata anche qualche delusione ma pochissima roba rispetto a quello che il Trapani ha vissuto, soprattutto nel nostro periodo. E poi c'è, lasciatemelo dire, che nessuno si offenda, la grandissima saggezza del comandante Vittorio Morace, che è stato secondo me l'artefice di tutto questo. Senza di lui non si sarebbe compiuto il miracolo Trapani, uomo di grande profondità umana. E poi c'è anche il buato del Trapani, di Trapani, del provinciale, ad ogni gol nostro. Questo è quello che mi rimane in testa. E tutto questo rimarrà sempre dentro il mio cuore.